Buongiorno a tutti, oggi ci troviamo in pieno centro a Trani, in una delle vie più richieste e servite della città. L'immobile è ubicato in un contesto condominiale molto tranquillo e con poche unità abitative e siamo lieti di presentarvelo. Barcando la porta d'ingresso siamo accolti in un disimpegno che ci accompagna nel soggiorno, pranzo, con cucina dall'aspetto moderno con pavimentazione in gress porcellanato marmorizzato, controsoffittatura con faretti ed uscita su un primo balcone che affaccia su un giardino condominiale laddove la tranquillità domina. Proseguendo verso il corridoio siamo accolti nella zona notte, composta da una comoda e sfiziosa cameretta, un vano tecnico con lavanderia, un ampio bagno con doppio lavabo, sanitari sospesi e termorredo. Infine completa l'immobile una grande camera da letto con uscita su un altro balcone. Perché scegliere questo immobile? Perché la sua doppia esposizione rende l'immobile soleggiato ed arieggiato per la sua ubicazione e per la sua ristrutturazione dall'aspetto contemporaneo i quali donano all'immobile un aspetto davvero unico nel suo genere. Impianto d'allarme e impianto di climatizzazione a pompa di calore, possibilità di acquistare anche i recentissimi mobili della casa. Non perdere l'occasione e prenota subito un appuntamento presso la nostra agenzia. Ciao, alla prossima!